Se non mi rovino il film questo là, aspetta metti gli occhiali che più figli, un cartellone, stai fermo, ci vuole un mese per fare sto, non fare la faccia da dare in bambini. C'è che devi venire a testi. Bentornati sul canale, oggi siamo in provincia di Vercelli, esattamente a Leri Cavour. E questo qua è un rimbambino.